Sono stati depositati da qualche giorno presso gli uffici della Segreteria Generale del Comune di Gela gli atti del tavolo tecnico dell'11 febbraio scorso relativi alla riperimetrazione del SIN Gela ai siti di interesse nazionale per la libera visione di chiunque ne abbia interesse. Il tavolo tecnico ha ampliato l'area SIN inserendo 60 km di condotte, 80 aree e pozzo attive individuate nella planimetria fornita da Enimed, le aree di esplorazione fornite dal direttore della riserva del lago Biviere e la discarica Marabusca. Cosa dovrebbero fare i cittadini interessati che volessero presentare opposizioni o osservazioni? Dovrebbero motivarla, hanno 20 giorni di tempo per farla, poi ci sono altri 10 giorni di tempo per ultimare la procedura, dopodiché gli atti verranno trasmessi al Ministero del Territorio e Ambiente e alla Regione per far diventare quelle aree individuate, cioè i 60 aree pozzo, gli erodotti, centrioli e delle aree SIN, quindi di interesse nazionale, per cui le bonifiche richiederanno i teleautorizzativi in capo al Ministero del Territorio e Ambiente. Chi può opporsi? Chiunque abbia delle motivazioni valide. È ovvio che a questo procedimento si è arrivato attraverso una serie di convenze di servizi che è durato circa sei mesi, con incontri con le varie categorie, vari portatori di interesse, per cui si è addivenuti a questa soluzione in cui si è anche incluso all'interno della perimetrazione che si estende su tutta la piana di Gela, anche i pozzi o le tentative di trivellazioni che poi non hanno portato alla creazione dei pozzi. È un notevole passo avanti, considerando che l'area SIN storica era quella della raffineria. Si chiamano sito di interesse nazionale perché le bonifiche rimangono sempre in capo a chi è proprietario, in questo caso, degli erodotti, quindi sarebbe la società Enimed. La cosa che cambia rispetto a non essere alle SIN è che c'è l'interesse dei ministeri che ovviamente, qualora venisse a mancare l'ente per la bonifica, diventeranno soggetto sostitutivo. Adesso cambiamo un attimo argomento, Assessore, perché la città versa in uno stato pietoso da un punto di vista della raccolta dei rifiuti. Da un lato la chiusura delle aree di conferimento che non ricevono più rifiuti da tutta la Sicilia. Dall'altra alcuni soggetti indisciplinati che gettano rifiuti a destra e a manca. C'è una soluzione che avete individuato a breve o l'emergenza rifiuti anche quest'anno getterà nel panico le cittadine siciliane? La parola d'ordine è differenziare. L'emergenza rifiuti non è sinonimo di sanatoria e quindi liberi tutti, conferiamo per strada quello che abbiamo in casa. È chiaro che più si differenzia minore è la quantità di indifferenziato secco che va in discarica, quindi più facile è contenere l'emergenza. Gela oggi rispetto ai territori limitrofi ha ancora un aspetto dignitoso, la Tegra sta lavorando lacrimente. È chiaro che le ordinanze regionali ci mettono in difficoltà perché limitano i quantitativi da portare nell'unica discarica aperta che è quella di Lentini, dove già code chilometriche mettono in difficoltà la possibilità di utilizzare gli autocombattatori per servire al territorio. Considerate che l'indifferenziato ammonda circa 80 tonnellate nel giorno in cui viene raccolto, l'ultima ordinanza ci vincola a conferirne soltanto 40. È chiaro che si pone il problema di dove andrà a finire l'altro 40. Quindi è chiaro che i comportamenti virtuosi aggiorveranno l'amministrazione. Oggi ho fatto io un sopralluogo su tutto il territorio, il territorio è dignitoso, il servizio sta ancora tenendo. È chiaro che più perdura l'emergenza più difficile è.